Bentornati in un nuovo appuntamento di SOS Rezzo TV, via degli accolti con Beppe Marconi, questa sua giubbetta rossa che ci... Il bello è che è così naturale, perché rossa? Perché sei un po' comunista, diciamo la verità Ti amerò per sempre, lui forse l'ha cancellato, ma quante sono innamorati queste ragazze Chissà di che anno è, lo sai che io venivo a scuola qui? Un po' più avanti, perché qui era già geometri No, nel tempo in questo anno esisteva All'epoca invece più avanti c'era una scuola che è stata spostata, cioè è stata inglobata dalla famosa ragioneria Comunque mi piace che tu ti soffermi sulla scritta e non su questa erba che cresce No, poi sopra abbiamo il bosco Guarda qua, abbiamo un bosco Ora ti sembra possibile Beppe, guarda lassù, guarda lassù Ti sembra possibile Beppe che una scuola tra le più frequentate Cioè tenga l'erba in questo modo? Eh, la provincia non c'è più, hai voluto abolire la provincia? Non ha voluto abolire niente, anzi io lo contrario La provincia non c'è più, i servizi passano dalla regione, altri passano dal comune Campa cavallo Altri passano a chi gli pare, però per ora non sono passati nessuno E questo è il risultato Tra un po' ne arriva sopra i mezzo Così avremo un po' di serpenti, vipere, topi e pieno qui nella scuola Ci salamenterà perché arrivano gli animali e per forza, ce li trovo tutti in casa Prendiamo che arrivano gli ucerto, le cose almeno, quelle sono innocue Quindi i cresciti, quello può fare, non può dire che li paga la scuola? No, qui il preside può fare ben poco, può segnalare esclusivamente alla provincia Che c'è questo problema perché lui non ce l'ha gli addetti Lui c'ha i professori, c'ha il bidet Lo segnala nessuno perché la provincia, ci sono anche cose rimaste di questa provincia C'è il presidente o poi che c'è? Si vede il risultato E c'è un consiglio provinciale formato dai sindaci Questo è il risultato Il vicepresidente della provincia è il sindaco di Talla Che penserà alla prossima festa a Talla Dei formaggi e dei baccelli È difficile che pensi alla scuola di Via dei Accolti Questo è evidente E questo è il risultato Questo dimostra che sono tutte chiacchiere all'italiana Vogliamo, tagliamo, ma che tagli? Sicuramente, un po' d'altro che intervengono Perché d'estate questa si secca Quindi diventa pericolosissimo Basta un cerino che ci va a fuoco tutto Quindi diventa veramente problematica Perché poi questa, quando brucia, brucia alla svetta Ma tu vedete che fiamme che fa E quindi Vici nel fuoco sono qui davanti Ah è vero, ci pensiamo Hai ragione, sono due passi Vabbè per quello che la lascio anche qui Il curriculum non c'è Però bene evitare È logico Non è solo qui la scuola Perché poi qui crescono anche qui Ma crescono anche nel marciapiede Che io credo che non sia Questa non è competenza della provincia Questa è competenza del comune Guarda là Adesso lo vediamo Aspetta che arriva il nostro amico Dorme un po' No, non dorme Guarda Vedi? Guarda Quindi è anche veramente brutto sto viale È brutto È brutto perché è maltenuto Guarda là giù poi Guarda che è cresciuta Insomma È tutto questo viale Ridotto in queste condizioni E quindi insomma È davvero un peccato Che una delle scuole più frequentate Si è avvolto Tra l'altro c'è scritto Vietato introdurre cani C'è il cartello No, lì sopra Ma io credo che i cani Se ne guardino bene Da introdursi in questo Vespaio Assolutamente Non credo che il cani abbia molta voglia Di andare lì Insomma Speriamo che La provincia Ma con quali soldi Con quali risorse Con quali competenze Non si sa nulla Ancora non si sa nulla E qui si taglia Si fa Si corre E poi Senza provamare assolutamente niente Si taglia Poi si vedrà cosa succede I veri Poi i mungitori Non è che erano in provincia I veri mungitori Sono un pochino più Verso Firenze No? Ma che parli Di latte di mucca Si latte di mucca Che piace Capra Capito Ho capito No pensavo Tu ti riferisci ad altri tipi di mungitori Anche perché ti ricordo Che le province Sono nate Tanto tempo fa Perché tu vedi 1870 Ah quindi Dopo la presenza di Portapia Subito Eh subito Invece le regioni Sono nate Molto Allora Io l'ho vissuta Le regioni Perché sono Un po' più i capelli bianchi Di te Esatto E Mia Famiglia di sinistra Logicamente Si stravedeva Perché Fessore fatta le regioni Perché così Avremmo visto Dove si amministrava bene Dove si amministrava male È vero Oggi un po' si vede Perché effettivamente C'è differenza Fara regione regione Però i costi Non sarebbero pensato Che sarebbero arrivati A questi livelli Quindi L'idea Era giusta Nel senso governare Dove è più vicino Si è vicino al cittadino Quindi ha raggiunto Anche le circoscrizioni Soltanto Ha raggiunto Dei costi Che sono insostenibili Dai Veramente È una cosa Sono diventate La burocrazia Della burocrazia Della burocrazia È impressionante Non so A questo punto qui Difficile anche tornare indietro Difficile anche tagliare Perché è un consigliere Il giornale Prende un sacco di soldi Per l'altro Ma non è il consigliere Che costa Costa anche il consigliere Ma costa anche tutto l'apparato Che è diventato Veramente Impressionante Però come al solito Il capo espiratore La provincia Che è pochetta Già aveva poche competenze Però quelle poche Scuola Strade Comunque Le svolgeva bene Almeno Arezzo La caccia La caccia La pesca Le svolgeva bene E quindi hai tagliato Una delle cose Che funzionava Lasciando quasi niente Al suo Ufficialmente Forse la regione Dovrebbe occuparsi Di alle strade Esatto Vedremo Quando ci sarà Qualche emergenza Se si è occupato E' fatto le bucamenta Ciao Ciao